Qual è il vantaggio del video marketing online? 80%. Secondo la Online Publishers Association, questa è la percentuale di utenti internet che ricordano di avere visto un video su un sito web che avevano visitato negli ultimi 30 giorni. Ma c'è di più. Di questo 80%, il 46% ha intrapreso una qualche azione dopo aver visto la pubblicità. Infatti, il 26% ha cercato più informazioni sul soggetto del video, il 22% ha visitato il sito menzionato nella pubblicità, il 15% ha visitato l'azienda rappresentata nel video pubblicitario, il 12% ha acquistato lo specifico prodotto evidenziato nella pubblicità. 64%. Questi sono verosimilmente i visitatori che comprano un prodotto su un sito di vendita online al dettaglio dopo aver visto un video. In aggiunta, i visitatori che guardano un video stanno sul sito una media di due minuti più a lungo di quelli che non ne vedono, sempre secondo Comscore. Il video marketing online non è solo per commercianti al dettaglio. 403%. Un gruppo immobiliare australiano riporta che gli immobili listati con video ricevono il 403% di richieste di informazioni in più. In altre parole, la pubblicità di immobili con un filmato genera una richiesta di informazioni quattro volte superiore. 59%. Secondo Forbes Insight, tale è la percentuale di dirigenti che guarderebbe un video anziché leggere dei testi. Quasi il 65% di quelli che guardano un video cliccano sul filmato per visitare il sito web del fornitore. Il 50% cerca più informazioni e il 45% riporta che ha contattato il fornitore dopo averne visto il video pubblicitario online. Quasi il 50% di coloro che hanno visto il video di marketing online sono poi andati a fare l'acquisto per la loro attività. Grazie per la visione!